Dal Golden Gate al Piano Pacifico per liberare il pianeta dal continente di plastica. Dopo 5 anni di test, da San Francisco il Myersc Launcher è salpato trainando l'avveniristica barriera galleggiante concepita dall'ONG The Ocean Cleanup per rimuovere l'oltre milione e mezzo di chilometri quadrati di rifiuti galleggianti tra Hawaii e California. La nostra principale missione consiste al momento nel provare che il dispositivo funziona. Se tutto va bene, tra qualche mese riporteremo indietro i primi rifiuti e se la tecnologia funziona ripeteremo l'esperienza con una sessantina di queste barriere galleggianti. La speranza è di rimuovere la metà del continente di plastica entro 5 anni. Dopo due ultime settimane di test a largo, la barriera galleggiante entrerà in azione. Lunga 600 metri e dotata di una rete che scende fino a 3 metri di profondità, opererà come quella che la stessa The Ocean Cleanup definisce una sorta di Pac-Man gigante. Si mangerà cioè tutti i rifiuti che troverà sulla sua strada per riportarli a terra e poi permettere un riciclaggio con cui i promotori del progetto sperano di finanziare il seguito dell'avventura.